OST 2021 continua, siamo allo stand di Celligroup SPA, una delle più grandi aziende italiane nell'ambito delle attrezzature per l'Orecca, ci troviamo in compagnia dell'amministratore delegato Mauro Gallavotti, Mauro bentornato Grazie mille, buongiorno e bentornato a tutti noi direi Io direi appunto bentornati tutti, intorno a noi ci sono tantissime persone che con ottimismo e positività stanno contribuendo a questo rilancio dell'economia, l'economia possiamo dirlo con certezza ormai è trainata da l'Orecca, lo dimostrano i numeri degli ultimi mesi ma anche quello che sta accadendo nel corso delle ultime ore di questa prima giornata della manifestazione OST Intanto, cosa è successo in Celligroup negli ultimi 20 mesi? Innanzitutto lasciami sottolineare che entrare in OST in Fiera Milano oggi è stata una grandissima emozione una fiera fisica dopo due anni di stop così piena e così piena anche direi di entusiasmo e di ottimismo quindi sono molto d'accordo sul fatto che c'è molto ottimismo è vero che l'Orecca sta chiudendo un anno sopra quelle che potevano essere le aspettative devo dire grazie anche al fatto che l'Italia è fra i primi paesi in Europa con la campagna vaccinale e che questo sta veramente aiutando un settore che ha bisogno di grande sicurezza per riprendere L'Orecca era stato messo, possiamo dirlo a chiare lettere, in ginocchio nel semestre o anche forse qualche mese in più ottobre 2020, aprile-maggio 2021 voi non vi siete fermati nel corso di questi 20 mesi come dicevo prima che cosa è accaduto in Celligroup? Sì, non siamo stati assolutamente fermi quindi abbiamo continuato a investire abbiamo continuato sul nostro percorso di crescita un percorso che ovviamente è costruito dietro la nostra missione che è quella di offrire al consumatore e alle aziende del beverage delle modalità di consumo delle bevande molto più sostenibili il dispensing e quindi l'erogazione delle bevande è decisamente superiore al consumo in bottiglia in lattina e in un momento in cui la sostenibilità sta diventando un tema così importante nell'agenda di tutto il mondo, nell'agenda politica, governativa, dei media ed è un tema veramente dell'umanità trovare delle soluzioni per un consumo di bevande più sostenibile diventa importante ora si parla tanto di Twin Transition che non è soltanto la transizione a modelli di economia e di consumo sostenibile ma anche la transizione digitale e come gruppo Celli quello che abbiamo cercato di fare è proprio quello di unire sostenibilità e digitalizzazione quindi abbiamo veramente lavorato molto sull'innovazione e sulla messa appunto di sistemi di erogazione digitali Alle nostre spalle c'è l'attrezzatura che ha suscitato maggiore attenzione, maggiore curiosità tra quelle che state presentando nel corso di Host 2021, di cosa si tratta? Allora le novità sono veramente tante perché stiamo mettendo sul mercato l'innovazione di due anni quella a cui ti riferisci tu è particolarmente appassionante nasce da una partnership con una startup di Milano che è Cocktail Machine di cui noi siamo appunto i produttori e i fornitori di tecnologia sviluppata da loro si tratta di una macchina completamente digitale, un mixer digitale per creare più di 100 cocktail partendo da pochi bag in box come basi e dai principali spirits la macchina con un software molto sofisticato, controllato ovviamente in remoto sul cloud attraverso le tecnologie IoT, eroga più di 100 cocktail dando un grande contributo nella gestione operativa del bar La novità in modo particolare che presentiamo qua a Host, essendo noi italiani ed essendo Host a Milano è la versione per l'erogazione quindi in modalità dispensing dello Spritz che è il re degli aperitivi in Italia Ma non vi fermate semplicemente a questa magica attrezzatura spingete ancora una volta un format che ha dello straordinario parliamo di Acqua Alma Acqua Alma per noi è veramente il portabandiera della sostenibilità abbiamo anche presentato recentemente uno studio che si chiama Smart Home 5.0 ossia come gli edifici residenziali italiani dovrebbero prendere in considerazione non soltanto l'efficientamento energetico ma anche l'efficientamento idrico le soluzioni di erogazione per il domestico saranno anche in questo caso il futuro del consumo dell'acqua per idratazione quindi dell'acqua da bere in tutte le case di noi italiani ma non solo ma anche all'estero è un settore in grandissimo fermento si stanno muovendo aziende piccole, aziende molto grandi anche e noi siamo i partner di tecnologia più avanzati con soluzioni digitali innovative e questo lo fate sempre con la vostra vocazione alla sostenibilità assolutamente sì, siamo ovviamente un'azienda che di per sé nel proprio DNA offrendo delle soluzioni tecnologiche per un consumo di bevande alternativo a quello che viene detto single use package siamo estremamente sostenibili e non diciamo altro perché in realtà voi avete presentato pochi mesi fa il rapporto di sostenibilità 2020 che è un concentrato di vocazioni al rispetto per l'ambiente per il consumo sostenibile dell'acqua e anche la produzione delle attrezzature nei vostri stabilimenti non solo in Italia sì, diciamo che se di per sé i sistemi di dispensing sono la soluzione più sostenibile noi ci occupiamo, come hai giustamente detto, anche di produrli in modo sostenibile abbiamo in Inghilterra appositamente un centro di eccellenza per lo stampaggio della plastica dove utilizziamo non solo plastiche riciclate ma anche plastiche, materie provenienti, polimeri provenienti da fibre naturali come il bambù o anche plastiche provenienti dal recupero dell'ambiente come per esempio dalle retti da pesca raccolte dagli oceani Cosa dobbiamo aspettarci per il 2022? Un anno che si presenta in grande ascesa per il fatturato di tutte le aziende italiane? Ma diciamo che sicuramente come i dati anche macroeconomici dicono il 2021 è un anno di forte ripresa fra l'altro con un'Italia che sta crescendo anche sopra la media europea anche così scambiandoci opinioni con colleghi e altre aziende del settore però penso che tutti stiamo entrando in un 2022 con un portafoglio ordini in crescita consistente quindi ci aspettiamo un 2022 di decisa crescita Diciamo anche in funzione della disponibilità e dei prezzi non maggiorati delle materie prime che rappresentano il più grosso problema per voi produttori in questo momento Ma diciamo che dopo il covid e il lockdown gestire le supply chain era una sfida di cui avremmo voluto decisamente fare a meno è sicuramente molto sfidante e molto difficile devo dire che quello che conta veramente è la fiducia in tutta la supply chain quindi la fiducia fra fornitori e clienti lungo tutta la supply chain per cercare di gestire al meglio quella che in effetti è una difficoltà operativa molto importante in questi mesi Mauro Gallabotti grazie per il contributo Grazie molto a voi